Allora, sono Luigi Salerno, autore del monologo Prima del Ritorno. La mia presentazione nella frase è quella che la ricerca di un linguaggio è sondare sempre più livelli di mistero, quindi addentrare il mistero della vita e quindi non solo del linguaggio. Il tema di questo monologo non è lontano da questo concetto, è un tema di solitudine, un tema di conflitto, di contrasti sul disfacimento delle convenzioni, della famiglia, delle certezze, sulla fascinazione di ciò che non è chiaro, non è controllabile e che nello stesso tempo ha questo potere stregante. Scrivo per il teatro perché mi interessa molto la forma del linguaggio nell'azione, mi interessa molto carburare e mettere in gioco le caratteristiche stilistiche in base a forme parallele di espressione che mi ritornano come grande nutrimento emozionale e intellettuale. Perché dovrebbe vincere Prima del Ritorno? Perché affronta delle tematiche profonde, stimolanti e perché mette in gioco degli archetipi che possono essere di grande presa e anche perché fa pensare, fa pensare un po' alle ombre che molte volte rendono anche più vera la luce. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.